questa è o forse meglio dire era la strada provinciale 250 un'arteria bisettrice tra le colline ioniche e la sila greca che per decenni ha rappresentato l'asse portante degli scambi commerciali della fiorente economia agricola della zona dal 2004 però da quando una slavina lungo la parete del torrente otturi e franata sulla carreggiata questa strada è inibita al traffico la mobilità delle zone interne dunque viene canalizzata sulla provinciale 191 e anche in questo caso se sparta piange atene non ride in appena 10 chilometri di tratto asfaltato ed in esercizio sull'SP191 abbiamo contato ben sette ostruzioni permanenti due corsie interrotte e addirittura l'inibizione al transito per bici e motocicli proprio lì dove esistono anche emergenze archeologiche siti di interesse strutture ricettive e il turismo dovrebbe farla da padrone tutto questo ha causato immaginabili ripercussioni negative alle economie delle popolazioni che abitano nelle contrade poderali e nel piccolo centro di paludi i cui appelli alle istituzioni provinciali e regionali affinché ripristinassero la viabilità sono sempre puntualmente caduti nel vuoto anzi le condizioni delle strade di collegamento principali rimangono precarie ed ogni qualvolta piove considerato anche il persistente rischio idrogeologico la paura che si possa rimanere definitivamente isolati ritorna sempre più concreta eppure quell'aria dell'entroterra tra lo ionio e la sila ancora oggi e nonostante tutto contribuisce per buona parte all'economia agrumicola olivicola pastorale e della produzione del pane dell'area ionica cosentina perché anche questa è italia marco le fosse per la cnews 24